musica 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 hai visto come tremano? quando vai in sala operatoria del chirurgo che sono io questi ghiè tremano ma questa è l'altra motozappa? sì quella che ci ha portato la motozappa prima la più nicchia l'ha portata a casa, ha fatto una gara con questo mica ci è andato via di panetta non è ripresa la voglio pure io la motozappa che va forte lui l'ha portata qui, questo ghiè è geluso allora ci devo elaborare la motozappa ma se non me la puoi fare più forte e magari ci metto subito la motozappa quanto più forte? tanto tanto ecco la che roba eh se blocca no la blocca mica che è la sicurezza qui questa è la sicura e quello qua? 626 626 quanto fa? 6 più 2 8 più 6 fa anche un bel 14 e questo qua della vespa? questo è il mio motoz e adesso, amico, la tira via il querciuchì che ha già tolto una vite e la mano si spacca dentro come va? perchè il motozappa era negato il tisinde ah ecco è più bravo che era un po' vissuto e lo comprami quel motozappa o fanno affari ma da quei propri guarda cioè un farmacista calzano di motu ecco compriva un robot di semel invece mi sono andato che ruttanti dell'osco e cosa devi farci? dovrei farlo diventare nuovo ma dai ma dai tanto hai le parrucchiere che sono capaci le parrucchiere? le parrucchiere di Fon quelle del Fon quale l'altra volta si esatto e ma no non c'era un estetista sotto le mani l'estetista per il mutuo ti dà capire una roba io mi sono estetista e poi sono dottore però ho i pazienti muti i motori non parlano i motori non parlano ma no ho capito ma sai il disdain ti dico perchè non parti? perchè non parti? ma l'è bloccato? parla no ma è bloccato? è bloccato proprio poi è timido non parla oh allora il dottore quando vado al dottore ti dice dottore ma fa mal chi? lui ti dà la medicina dica 33 dica 33 e ti dà la medicina questi dici guardi non parte va no sta ben no e mi vado a parlare con il mutuo che parla no ti capito? sul dottore paziente muto questo qua paziente muto almeno non si lamentano si ho capito ma disano un cazzo partendo da via c'è un problema ti capito? il toscato gira no ho capito che gira no ma quel che gira e partì sa no eheh e li e li e li e li ah guarda dite che credi no eh vede sai che cos'è? questa è la pompa questa qua è la pompa dell'acqua di una lavatrice eheh la funzionava no la via c'è la lavatrice che ha appena 30 anni ci sono affezionato e vabbè ho capito da fare allora gli rispondi sarà la scheda elettronica sarà la scheda elettronica ma 30 anni fa che erano la scheda elettronica che erano le puntine si che era il mutuo la pulete la cinghia la pompa dell'acqua e non andrà più questa e beh lei la fa funzionare oh la fa funzionare vedete che la corrente è la base fai vedere fai vedere esatto vedi la pompa qua attenta che la pompa ma sicurezza della 626 attento aspetta che Kikishi che è la sicurezza Kikishi Kikishi viene in mente la mia amica Kikishi la tua amica? si chi è la tua amica Kikishi? aspetta uno di Milano ma che roba eh? vabbè 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 io la pompa ce l'ho smontato lo stesso la tengo io perché faccio la fontanella e faccio il circolo d'acqua con i pesci eh bravo metto un'ora retina qui che da dentro un pesno mi fanno male da qui pah carne tritta pesce tritta hai fatto il sushi e allora ci devo mettere la retina capito? tu ci vuoi mai mangiare dei sushi? dei wok? che cos'è che è il wok? i wok i giapponesi sai i sushi il salmone il salmone cosa ne pensi? l'ho mangiato ieri il salmone e com'è? e l'ho bruciato e l'intanto che guardavo le biscotti ho fatto un pezzo di salmone e l'ho bruciato e ci vuole io avevo una che bruciava le vongole l'ho mangiato l'ho mangiato l'ho mangiato l'ho mangiato infatti vabbè lasciamo stare e saluta a tutti ciao 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 ciao